Aveva pensato a uno scherzo, tanto da non comprendere quanto pericolosa per lui fosse la reazione istintiva avuta al tentativo di rapina, che invece era più che serio. I carabinieri del comando provinciale di Bari, insieme alla compagnia di Altamura, hanno operato il fermo di tre persone ritenute responsabili dell'assalto di mercoledì scorso al distributore di benzina in via Gravina ad Altamura, quando uno dei due figli del gestore che in quel momento erano presenti nella struttura, venne ferito alla spalla da uno dei due colpi esplosi da uno dei rapinatori. Le immagini degli impianti di sorveglianza hanno permesso di individuare un dicendovenne incensurato, ritenuto colui che di fatto ha sparato, e un 34enne pregiudicato che dopo aver sottratto 300 euro dalla cassa del distributore si sono allontanati a bordo di un'auto, poi abbandonata insieme alla pistola nelle campagne circostanti. L'età del rapinatore intanto lascia veramente perplessi sulla sua invece incredibile violenza e decisione, già che ad appena 19 anni ha esploso più colpi di arma da fuoco nei confronti dei due fratelli che erano loro malgrado lì a subire questa rapina così violenta. Insieme ai due è stata fermata anche una 52enne di Gravina che avrebbe preso a bordo nella seconda parte della fuga i due malviventi, dirigendosi verso un centro commerciale dove i tre avrebbero tranquillamente speso i soldi appena rapinati. recuperata anche la pistola una scacciacani abilmente modificata con l'innesto di una canna in acciaio che potrebbe aver sparato anche in altri episodi analoghi recentemente avvenuti nella zona. Era un fatto di estrema efferatezza, meritava un impegno massiccio, forte e immediato da parte delle istituzioni. Siamo riusciti a raccogliere elementi concreti, fondamentali, la magistratura è stata rapidissima, abbiamo consolidato il risultato. Grazie.